Non si poteva non partire così, non me ne frega niente dall'abbigliamento ragazzi, fa un caldo atroce Paolo Di Bala, Paolo Di Bala, è un nuovo giocatore della Roio, non ci credo Io non ci credo, ho detto devo trovare 5 minuti per fare sto video perché deve rimanere Deve rimanere nel mio canale, nella storia della storia assegnato con il numero 10 Paolo Di Bala, Paolo, sicuramente prenderà la 10 ragazzi Io già mi immagino una bella presentazione, uno di quei video simpatici che facevamo all'epoca Giustamente adesso stiamo promuovendo questa roba da adesso, dall'anno scorso Per aiutare questi ragazzi scomparsi ad essere ritrovati e mi va benissimo Però ci sta anche quella video presentazione particolare Magari io mi immagino tutti che dà la maglietta numero 10 con scritto Di Bala Scoppia internet, il video farebbe il giro del mondo, diventerebbe il video più visto dell'anno e dei secoli Fatelo, Friedkin fatelo ragazzi, abbiamo avuto un buccio di culo con sta proprietà In due anni ci hanno portato Mourinho, Abram, una conference, Paolo Di Bala Cioè basta, già battuto pallotta, finito, per me possono anche vendere adesso Hanno già fatto più di pallotta, basta Cioè senza se e senza ma Mamma mia ragazzi Che bellissimo, sapete perché? Perché io non ci credevo, io ero convintissimo che andasse all'Inter Avevo una paura fottuta che fosse uno di quei giochini dei procuratori Che magari vanno a elemosinare stipendi da altre squadre per far muovere la squadra che è realmente interessata Cioè l'Inter Invece no ragazzi Antuna ha abbassato le pretese, Di Bala ha abbassato le pretese 4,5 più 1,5 di bonus ragazzi È un capolavoro Di Bala doveva rinnovare con la Juventus A 7,8 milioni E li ha rifiutati perché ne voleva 10 E ha firmato per noi per 4,5 più 1 di Tiago Pinto, io ti amo Adesso i Friedkin sono andati con il loro jet privato A prenderlo e a portarlo direttamente in Portogallo Quanto cazzo siamo ricchi Quanto cazzo siamo ricchi ragazzi Ma come si fa a non godere A me dispiace per gli interisti perché Molto probabilmente perderanno anche Bremer Così sto sentendo Cioè in due giorni perdere Di Bala e Bremer Io al posto loro mi sarei veramente Proprio frustato Le gambe Le gambe Mamma mia Non me ne frega niente La seconda scelta La terza scelta Sti cazzi Sti cazzi Sti cazzi È venuto Viene da noi Ma sapete quanti Quanti giocatori vanno in un'altra squadra Perché la seconda Di Maria Non voleva andare al Barcellona Così Quindi E sti cazzi Pensate che gli Juventini Non staranno godendo adesso Di avere Di Maria in squadra Sti cazzi ragazzi Al giocatore non frega niente La squadra dove vanno L'importante è che vengono pagati E a maggior ragione Se Di Bala Ha i bonus legati alle presenze e ai gol Ha voglia Quanto deve impegnarci Altrimenti ho 4 e mezzo e basta E basta È stata un'operazione capolavoro La Roma si è inserita nel momento giusto E in due giorni ha chiuso È stata un'operazione capolavoro Tiago pinto complimenti Sicuramente Sicuramente Ci sarà lo zampino anche di Giuseppe Mourinho Che ha alzato la cornetta E avrà detto Paolo Sono I am Giuseppe Mourinho E lì Paolo si è bagnato E ha detto subito Sì sì Giuseppe Vengo da te Napoli Non Napoli Ragazzi Io a Napoli non ci ho mai creduto Credevo più a un ritorno dell'Inter Che è un avvicinamento del Napoli Per ovvie ragioni ragazzi Perché Non per i napoletani Per il Napoli in sé per sé Ma se Se una squadra che sta Cercando di abbassare il Montengaggi Non rinnova il capitano Non rinnova Mertens Non riesce A rinnovare quelli balì Mi sembra assurdo Poi che vada a dare 6-7 milioni A Paolo Di Baccio Capita Non vedevo il senso logico Non vedevo il senso logico Dell'operazione Poi Magari Il Napoli Si sarebbe infilato In caso di no alla Roma E quello è un altro discorso Ma io Ero preoccupato più Per il ritorno dell'Inter Che per l'arrivo Diciamo Del Napoli Ora che succede ragazzi Ora che succede Che stiamo godendo tutti Cosa può succedere Cosa può succedere Ma frega un cazzo Fra te Si dicono che è saltato Bas Cioè Questo è Di Balla Il sostituto è Mkhitaryan Di Balla Paolo Di Balla E il sostituto Di Mkhitaryan C'è Mi avete sentito bene Cos'altro volevamo di più Adesso cerchiamo Di prendere Un centrocampista Così anche in prestito Tanto abbiamo visto Che si possono vincere Anche gli scudetti Con Prendendo in prestito I centrocampisti E qual è il problema Finisce là Wijnaldum Ma lo vado a prendere io Se il PSG Mi paga il 70% Dello stipendio Che prende Prendo io la macchina Andiamo a Parigi Facciamo una Una macchinata ignorante Stile Calciatori brutti Andiamo a prendere Wijnaldum A Parigi No problem No problem Tanto la benzina Costa anche poco Capirai Stiamo Ragazzi Stiamo Io ancora non ci credo Ieri Stamattina mi sono alzato Perché io Comunque mi alzo presso Tu sei lì Che Refresci la pagina Di Twitter Perché dovete seguirmi Su Twitter Ragazzi Perché lì Sto twittando Come un animale Io su Twitter Non sono mai sparito Se qui Sono sparito E mi dispiace Però sapete Che sto aggiustando Casa Sto andando Lavoro Destra e sinistra È un po' un casino Perché quando mi trasferirò Ho molto più tempo Per farli E quando inizierà il campionato Dovrei avere più tempo Per farli Ero lì Che facevo Col dito Verso il basso Per Aggiornare la pagina Twitter Io penso che In questo momento Interisti Ma secondo me Anche gli Juventini Sono Combattuti Mezzi contenti Mezzi scontenti Perché Sono contenti Che non è andato All'Inter Ma sono scontenti Perché Perché Di Bala Ha rifiutato Un'offerta di rinnovo Più alta Rispetto a quella Che andrà a prendere Alla Roma Cioè io fossi milanista Starei rossicando Anch'io Per l'amor di Dio Cioè al Milan Serve un trequartista Di Bala Che va alla Roma Io starei rossicando E noi godiamo Noi stiamo godendo Come Ricci Come diceva il buon Claudio Ragnieri Questo è quanto ragazzi Aspettiamo L'ufficialità Oggi ci saranno Penso le visite mediche C'è chi diceva La risposta entro giovedì O fino a giovedì Non ci sarei mai arrivato Invece Di Bala Di Marzio L'ha sganciata così Dopo il dissing Su Twitter Tra Pedullà e Di Marzio Di Marzio Esce la sciabola E si difende Con Di Bala Alla Roma Visto che Pedullà Dava Di Bala All'Inter Sempre Non ha mai parlato Di Roma Non ha mai parlato Di niente Questo è quanto ragazzi Aspettiamo l'ufficialità Sempre 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 Forza Roma Ciao Valio Paolo Di Bala La gioia